Sogno lucido sulla ubiquità Qualche mese fa feci un sogno lucido. Mi trovavo in una grande, enorme nave, una città-nave fatta di legno e metallo insieme, dove alloggiavano svariate persone. Vi era una serie di stanze adiacenti, contigue. Oltrepassando la porta di una, si accedeva all'altra. Io volevo oltrepassarle, e trovare un punto da cui salire sul ponte della nave, e da lì giungere alla prua. Ero in una di queste stanze, e mi accingevo a entrare nell'altra contigua, quando mi accorsi che in essa vi era una specie di guardiano, qualcuno che non doveva vedermi. Allora, con tutto me stesso, mi proiettai oltre quella stanza, andando a finire in quella dopo, che poi scoprì essere una sorta di sgabuzzino, nel cui soffitto c'era una botola aperta, con una scala. finalmente, potevo salire sul ponte. Durante il fenomeno del proiettarmi dentro lo sgabuzzino, senza passare per la stanza col guardiano, io mi trovavo in due punti contemporaneamente, nello sgabuzzino, ma anche nella stanza di prima, adiacente a quella del guardiano.